L'Immena Zayag individua della dinamicità, dei centri dinamici, dove appunto c'è non una verità ferma e unica ma una possibilità, una sapersi prendere il rischio, giocare con il rischio, stare nel rischio. Questo è sostanzialmente una delle linee che ci piaceva introdurre con il discorso di Benazza Yago oggi per i giovani 30 attrassori. Non credo che sia un grande fratello, un big brother, che sta creando una strategia. Quando parlo di una strategia generale che fabbrichi un uomo e le società, parlo di una strategia senza strategia. D'un punto di vista che potremmo identificare come post strutturalista, nella società esistono delle strategie ma sono inclusi nella stessa strategia. Se vogliamo capire grandi processi, se vogliamo capire grandi processi, e non solo attaccarci ai racconti, problematiche. Dobbiamo capire che questi sono inclusi in qualcosa che li supera e va oltre. che dice che nel nostro mondo tutto è possibile. E che dobbiamo agire in un modo da non rispettare nessun tipo di limite. Ora, ovviamente, se tutto è possibile, nulla è reale. Diciamo quello che noi chiamiamo i punti del reale, sono i punti che, in un sistema qualsiasi, delimitano un'impossibilità a partire dalla quale dei possibili possono emergere. E per quello che una società che crede che tutto sia possibile, non è strano che noi ci troviamo annegati in una soggettività di impotenza. Grazie.